ragazzi ragazzi che serata di mamma mia le italiane allora l'aperitivo l'abbiamo preso oggi pomeriggio con l'inter e napoli fuori dalla youth league e la cena è stata servita questa sera con l'uscita dell'inter e del napoli ma da allora io lo dico me non me ne frega nulla sto godendo per solo per quelli che hanno rotto i coglioni che rompono le palle e a tal proposito risaluto pg ciao pg cazzo non ne azzecca una non ne azzecca una non ne azzecca una pg uno di noi fai avanti così ragazzo perché non ne azzecchi una attacchi danni e danni fa milioni divise cioè comincia a fare una marea di iscritti attacca la juve e hanno fatto 45 43 punti su 45 dice che napoli sulla gioca col psg e liverpool e va fuori cazzo continua così ragazzi sei il mio idolo se il mio idolo continua così detto questo ragazzi parliamo seriamente allora a mio avviso a mio avviso e questo l'ha detto l'inter accannato nel mercato questo l'ho detto all'inizio e diciamo che all'inter per gli interisti giustamente oggi fa male fa male questa partita ma non tanto perché sei uscito però credo che se fosse uscita l'inter con la vittoria del tot del tottenham la barcellona credo che sarebbe stata meno amara così fa male così amarissima cioè esci perché pareggi in casa contro una squadra oggettivamente scarsa come il peso dove e quindi quindi penso che all'inter faccia male questo discorso un pochino diverso al napoli a napoli mi sento anche di giustificare l'uscita del napoli senza particolari sfottò se non fosse perché il proprio allenato il suo allenatore ha sparato prima con la stella rossa in maniera proprio da sborone no se non passiamo siamo coglioni e cazzarola poi normale che ti sfottano voglio dire te le vai anche cercare detto questo le due qualificazioni sono decisamente diverse allora secondo me il napoli ha avuto molta sfortuna nel sorteggio era riuscito poi a metterla comunque in una situazione favorevole e secondo me ci sono squadre che hanno deluso tantissimo pari san germain nelle due partite con napoli è deluso non ha deluso tanto con liverpool pur avendo perso però è una partita che se me ce l'ha giocata bene nelle due contro napoli oggettivamente secondo me il psg è deluso soprattutto a parigi perché a napoli ci stava quel godi di maria alla fine è costato tutto a napoli è però francamente il psg non mi dà ancora la sensazione che stava non abbia ancora rodato come doveva il liverpool invece a me dà la sensazione che è la classica squadra che corre a 3500 all'ora ma che appena cala un po il ritmo diventa una squadra oggettivamente battibile mi ricorda un po l'atalanta chiaramente più forte però un po come l'atalanta squadra che finché gomez zapata e tutti corrono 3.000 all'ora da fastidio a chiunque ili cicce eccetera però appena cala perde punti poi anche con l'empoli no il liverpool mi dà questa sensazione squadra che può battere madrid può battere barcellona però magari poi capace uscire con non so stella rossa in doppia sfida non lo so sono squadre più deboli credo che il napoli oggi potesse vincere la partita anche se devo essere anche onesti nel dire che il liverpool si è mangiato l'impossibile si è mangiato l'impossibile e napoli non ha controllato ma da una parte giusto per il napoli ha fatto una partita se non è molto difensivo difensivista non sbagliando secondo me io non sono un denigratore del contropiede io sono per l'idea della massima del risultato bisogna fare il risultato punto e credo che oggettivamente il napoli abbia fatto la tattica giusta aspettare il liverpool e ripartire però è arrivato comunque il gol di Salah, Salah è un giocatore di quelli che la partita te l'ha svolta anche con due metri detto questo dopo il gol il napoli ovviamente ricordiamo che con il 2-1 per il liverpool passava il napoli quindi il napoli si è buttato tanto su e il liverpool in contropiede ha avuto tante occasioni ne ha avute tante, ne hanno sbagliate due manè, no tre manè ne ha sbagliate una peggio dell'altra Salah pure insomma su occasioni Salah quando ha scartato Spina che poi ha girato si è mangiato veramente un gol il napoli ha avuto due occasioni secondo me clamorose una con Caléon che si è mangiato un gol che non so come abbia fatto sbagliare e l'altra con Milik e Milik lo stanno massacrando perché ha sbagliato il gol qualificazione ragazzi quel punto lì si segnava Milik era finita cioè c'era poco da fare ragazzi il liverpool non faceva altri due gol però sono dell'idea che sicuramente sarebbe stata una beffa per il liverpool però ragazzi nel calcio si sbagliano anche questi gol fa parte del gioco cioè non credo che il napoli sia uscito solo per il gol di Milik ma credo che sia uscito per il gol di Maria come ho detto prima e per non aver vinto a Belgrado io dopo Belgrado rischio ad impesare questi due punti e effettivamente poi hanno pesato la pariamoci chiaro hanno pesato hanno pesato forse poi più due punti lasciati a Belgrado che quei due lasciati a Parigi quindi detto questo, detto questo Napoli fuori però adesso a parte lo sfottò che ci sta soprattutto per Ancelotti per quella frase detta ma Napoli alla fine esce perché pariamoci chiaro non puoi non fare mai mercato e sperare che ti vada sempre bene cioè la sensazione che mi dà questa squadra è che se gli togli anche gli dovessi togliere Koulibaly e prendere Koulibaly lo vendi questa squadra qua ha già perso ancora tantissimo la sensazione è che i tre che c'è davanti nelle grandi steccano sempre e la cosa che sto notando è che De Rossi con la Roma faccio un esempio, quando non si sente all'altezza dice mister sto fuori mentre invece il capitano del Napoli continua a voler giocare pur non essendo più all'altezza di giocare a certi livelli e Napoli può fare una buona Europa League però attenzione qua sto sentendo dire vincono, vincono, vincono aspettate, c'è Sarri, c'è Sarri col Cersi, c'è l'Arsenal io aspetterei a dire che l'hai vinta l'Europa League prima bisogna giocarle perché se no fai l'errore che hai fatto prima di questa partita discorso a parte invece per l'Inter l'Inter invece credo che sia veramente una roba, una roba cioè io capisco i tifosi dell'Inter che sono incazzati perché cioè pareggi in casa con questo PSV che francamente è a livello dello Young Boys una partita da dentro fuori e poi ho notato una cosa, guardatevi bene vi lascio questo spunto gol dell'Inter i cardi va a esultare e vanno tutti ad abbracciarlo però è gol dell'1-1 gol dell'1-1 gol del Tottenham gol dell'1-1 che segnano due minuti dalla fine tre minuti dalla fine, cinque minuti non lo so prendono la palla, non vanno neanche esultare prendono la palla e tornano al centro campo la differenza delle due cose ho avuto quasi l'impressione che sul 1-1 l'Inter ha smesso di giocare sicura che il Tottenham non riuscisse più a pareggiarla questa è un'impressione che ho avuto detto questo l'Inter ha fatto degli errori secondo me madornali il primo non riscattare Cancelo e trovarsi con Versalico D'Ambrosio e Asamoah che in tre non fanno decilio cioè per rendere l'idea questo secondo me è un errore grosso come una casa perché avevi due giocatori Raffini e Cancelo che solo riscattando quelli te li già abbastanza salvato il mercato ha preso Politano che ha fatto un primo tempo male ma poi ha fatto un gran secondo tempo ma è un giocatore secondo me che alla fine è arrivato in sordina ed è quello forse più azzeccato ha preso De Vrij che a mio avviso quando l'ho detto allora allora mi sono preso ma adesso pian piano la gente si rende conto che De Vrij non è così forte come si pensava che sono soldi di ingaggio buttati quando francamente a mio avviso Miran è ancora superiore e poi l'errore principe di tutto il mercato dell'Inter sono due la scambio Nengolan-Zaniolo quella credo che sarà una roba che pagheranno per anni pagheranno per anni perché Zaniolo è destinato a diventare il titolare della nazionale italiana e Nengolan invece e va giù ormai direi quasi a fine carriera ma soprattutto non aver venduto Perisic cazzarola dopo il mondiale che ha fatto la prima cosa che doveva fare l'Inter rientrata dalla Russia rientrata dalla Russia era venderlo perché quel giocatore lì ha raggiunto l'apice e ne stavano facendo un altro ragazzi guarda se prendevano Modric Modric con questo Inter qua avrebbe fallito perché non sono un Ronaldo che ha 33 anni c'ha ancora 36 anni ha l'energia di uno di 20 sono giocatori che soprattutto i seri slavi i balcanici sono giocatori molto lunatici cioè l'idea che ho io è comunque cioè o trovi Mandzukic che è un altro tipo di giocatore ma i giocatori di classe guardate Pjanic quante partite fa bene e quante partite ogni tanto canna completamente e quando le canna? le canna totalmente perché? che sono giocatori così discontinui discontinui l'Inter avrebbe dovuto prendere Perisic e cederlo perché era il momento più alto della quotazione un po' lo stesso errore che fece dopo la finale di Champions vinta quando invece di dar via mezza squadra che aveva probabilmente raggiunto l'apice della carriera e delle potenzialità ha preferito tenere tutti per amore e questo amore li ha portati poi ad avere delle difficoltà non solo in campo ma anche economiche detto questo io credo che Spalletti comunque delle cazzate le fa sempre come credo che l'abbia fatta Ancelotti e niente adesso vediamo vediamo l'Europa Liga il sorteggio perché sono curioso sono curioso e bisogna vedere come queste squadre affronteranno l'Europa Liga ora tutti dicono che la vogliono vincere però un conto è volerla vincere poi come ho detto un conto è vincerla perché tra l'altro tra le varie squadre da non sottovalutare ci sono le italiane perché ci sono Lazio e Milan dentro che non sono cioè chiaro per queste due squadre qua la beffa massima sarebbe l'Inter che esce col Milan e il Napoli che esce col Chelsea sarebbero due beffe clamorose che tra l'altro non sarebbe poi così fuori dalla norma perché oggettivamente può anche capitare detto questo la Roma è già passata almeno un'altra italiana è passata la Juve è già passata domani si gioca al primo posto in Youth League domani ecco a livello di coppe ci sono la Lazio è già passata come seconda in Europa League il Milan si gioca la qualificazione giovedì ad Atene e la Roma invece domani si gioca la qualificazione Youth League per il secondo posto contro la Vittoria Pilsen ed è una bella partita ve la consiglio di vederla domani alle due dovrò farla su Sky se non sbaglio se potete guardatela perché è una partita dentro fuori ed è molto interessante chi vince passa chi perde va fuori quindi credo che ne valga la pena e niente adesso domani mi guarderò la Youth League della Juve anche se è seconda ma la Juve va bene qualificati sedicesimi e poi mi guarderò domani sarà la Juve perché sono curioso di vedere se la Juve riuscirà a arrivare prima uso il condizionale perché dopo quello che ho visto stasera non avrei mai pensato che l'Inter poteva uscire pensavo che Napoli potesse perdere la Liverpool oggettivamente ma ci stava e infatti pensavo già prima dissi che secondo me quel gol quei gol mancati a Belgrado potevano costare caro non mi aspettavo che l'Inter non passasse perché lei stessa non vincesse col PSV questo lo devo dire e adesso vediamo domani la Juve insomma ragazzi vi auguro una buonanotte e vi do appuntamento con i prossimi video ciao PG continua così mi raccomando